le colline di iziano piacentino vigne 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 a perdita d'occhio usano per legare le viti questi corde questi aggeggi questi supporti di plastica dopodiché il tema è guardate in che condizioni sono ovviamente si stanno sgretolando e sono ovunque nel terreno ovunque come dire quando andate in spiagge trovate migliaia di mozziconi esatto poi venite a fare un passo in campagna e mezzo alle vigne e trovate frammenti di plastica ovunque in terreno siamo aperta campagna guardate questo è un altro è chiaro verde scuro alcuni sono azzurri questo è solo tipo un metro quadro in cui mi sto muovendo ora e vedete è pazzesca è incredibile quando viviamo una bottiglia di vino sappiate che in campagna questo è come dire atteggiamento comune e diffuso evidentemente perché tutto intorno ed è mezz'ora che giro in queste colline è così ovunque se ti fermi e guardi il terreno ecco su questa vigna sembrano tante mollette appese mica li usano queste queste sono quelle della vecchia legatura e si stanno disintegrando tutte come vedete ci fanno anche il vino biologico sul terreno che fa davvero pietà non si parla di rispetto dell'ambiente e sono questi piccoli gesti che lo fanno un buon ambiente un cattivo ambiente